Ciao ragazzi, bentrovati nuovamente sul mio canale YouTube Il video di oggi è un video che mi sento di fare veramente col cuore, più che dovuto quasi quasi Perché? Perché dopo comunque che mi sono presentato a voi, a voi pubblico, con diverse mie presentazioni di moto, prodotti e quant'altro Adesso è arrivato il momento, più che corretto, che sia io a presentarmi a voi Chi sono? Sono un ragazzo calabrese della provincia di Vibo, Valencia, classe 1989 Che cosa faccio nella vita? Bene, sono un felicissimo compagno di una ragazza, sono genitore della mia amata Sofì Soprattutto a livello di lavoro sono un semplicissimo venditore di automobili Quali sono le mie passioni? Eh, bella domanda, forse non basterebbe un video intero per descriverle tutte, ma comunque è semplice, dai cerco di raggrupparle Punto numero uno, la mia passione principale è quella che mi spinge, diciamo, a mandare avanti questo canale Ovvero le moto La mia passione delle moto nasce sin da quando ero bambino Non ricordo, 4-5 anni il mio papà mi portava in giro sul mitico Califfone 54 tempi Ricordo ancora che non si usava la targa per i cinquantini E io mi tenevo davanti seduto con le manine sul cestino Dopodiché mi iniziò a portare in giro quando cambiò la moto con un Cajiva Aletta Elettra 125 del 1986 Anzi, su questa moto vi dedicherò un video qualche giorno promesso Dopo acquistò la Transalp Da lì fecimo il primo viaggio in Sicilia Ed è da lì che ho iniziato ad amare un pochettino, diciamo, il cosiddetto mototurismo Passione numero 2 è senza dubbio quella che mi spinge anche a fare il mestiere che faccio Ovvero il venditore di automobili Molti mi dicono che sono fortunato perché da una passione ne ho ricavato un lavoro È vero, si dice che chi fa un lavoro con passione non lavora Passione numero 3 Sono un grandissimo amante della buona musica Non musica commerciale ma buona musica E passione numero 4, no, perché sia la meno importante Sicuramente sono un grandissimo amante della tecnologia Beh, perché ho deciso di mettere in piedi questo canale? Sicuramente perché mi piacerebbe molto trasferire questa mia passione a voi tutti E passione che mi rendo conto è che qui nella mia zona purtroppo non viene molto alimentata La moto nella mia zona non è molto percepita, diciamo, come una passione Basta spostarsi nell'arco di 70-100 km E invece, diciamo, la cultura motociclistica è un pochettino più evoluta Ma sono sicuro che piano piano riuscirò a coinvolgere veramente tante persone Seguitemi sul mio canale È tutto gratis E soprattutto se avete voglia di incentivarmi sempre di più Basta semplicemente un click al pulsante iscriviti Ci vediamo presto con un'altra carrellata di nuovi video Ciao